E' un'Italia che ha bisogno di sì, basta con i tanti no che ingessano il paese, così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenuto a Pescara nell'ambito del suo tour politico in tutto il paese. Avvicinato dai cronisti, Matteo Salvini ha ribadito che è pronto a tornare alle urne già nel prossimo autunno, candidandosi a Premier. Troppi no, ho sentito Conte, Di Maio, Di Battista attaccarmi, insultarmi, io non parlerò mai alle dei 5 Stelle, sono contento di quello che abbiamo fatto per i primi mesi, sono contento di quello che sono riuscito a fare per l'Italia e per gli italiani, quindi porterò sempre rispetto a Di Maio e a Conte, mi spiace di questi insulti, però troppi no. E' di ieri il no alla TAV, come fai a votare contro un'infrastruttura fondamentale per l'Italia, per il paese, per lo sviluppo, per il futuro, per il progresso, e no alla riforma della giustizia, e no alle autonomie. Spero che non ci sia nessuno che la tira in lungo per non mollare la poltrona e che pensa a altri giochini e giochetti. Il suo Conte dice che Salvini dovrà venire in Parlamento a spiegare il perché di questa crisi. Verò in Parlamento a dire quello che ha detto a voi. Ho portato pazienza all'infinito, ma quanti italiani, quanti imprenditori, quanti lavoratori, quanti precari, quanti artigiani, mi hanno detto Salvini, però bloccano tutto, il Ministero dell'Ambiente blocca tutto, il Ministero delle Infrastrutture blocca tutto, è al Ministero della Difesa, più che di difesa si occupano di altro, quindi ho tenuto fino a che ho potuto. Mi sarebbe convenuto andare avanti. La Lega è pronta a candidarsi da sola? Ma già non sappiamo quando ci mandano a votare, io spero il prima possibile, poi ragioneremo con chi e perché, sicuramente non vedo ritorni al passato. Poi siamo in democrazia, chi sceglie Salvini sa cosa sceglie. Abbiamo fatto una scelta di onestà, di coerenza, di coraggio, potevamo stare tranquilli lì a mezzo servizio a scaldare le poltrone, non sono nato per scaldare le poltrone. Chiedo agli italiani se hanno la voglia di darmi pieni poteri per fare quello che abbiamo promesso di fare fino in fondo senza rallentamenti e senza palle al piede. E se no in democrazia questo sicuramente sì. Questo sicuramente sì. Grazie a tutti.